La cosa più lampante di tutta questa esperienza Covid è sicuramente l'incremento della digitalizzazione per le relazioni, questo sia per noi che lavoriamo nell'associazione di categoria e quindi come ci relazioniamo con i nostri associati sia tra gli associati, tra di loro, con i fornitori, con i clienti, questa forse è la cosa più lampante che vediamo. C'è un altro insegnamento però che mi sento di porre l'attenzione che è quello che in questo momento stiamo tutti dipendendo da decisioni che non prendiamo noi, che sta prendendo il governo nell'ottica di interessi più alti e mi permetta di dire che da questo punto di vista l'intervento politico di confrattigianato a livello nazionale del nostro Presidente Iraci Sareri su Verona è veramente fondamentale. Il Presidente Iraci Sareri sta parlando con tutti i parlamentari veronesi e con tutte le istituzioni e con le altre associazioni di categoria perché ha veramente a cuore il test delle relazioni politiche che poi possano far capire esattamente al governo quelli che sono i bisogni degli imprenditori piccoli e che sono inseriti in una filiera più grande su Verona. Infatti noi non vediamo l'ora che riparta anche la filiera per esempio del turismo su Verona perché gli artigiani hanno bisogno di questo, hanno bisogno di tornare a lavorare inseriti nel loro contesto che è il contesto di Verona.